Il comune di Antrodoco conferirà al nono reggimento alpini dell'Aquila la cittadinanza onoraria. Dalle 10 di sabato 13 luglio avrà inizio presso il chiostro di Santa Chiara una mostra statica dove saranno esposti mezzi militari, tende pneumatiche con mostra fotografica relativa alle recenti missioni svolte dalla caserma aquilana sul territorio afgano e armamenti in dotazione a nono alpini. Sarà allestito un punto informazioni poi davanti alla stazione di Antrodoco in piazza Marconi. Si potrà visitare la chiesa di Santa Maria Extramenia, il museo della città Lindellia Carlocesi e il museo storico alpino che sarà aperto dalle 10.30 alle 19.30. Dalle 16.50 inizierà la sfilata lungo le vie di Antrodoco, sfilata aperta dalle Magiorette Centro Italia seguite dalla banda ACMA di Antrodoco, dai bambini delle scuole, da una piccola rappresentanza del centro anzianico le divise un nonno per amico. Naturalmente ci saranno rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini. Poi ci saranno i mezzi e gli agenti del Corpo Forestale dello Stato a Cavallo e un plotone della 119esima Compagnia del nonno alpini con in testa la fanfara di Castel Sant'Angelo seguiti da un plotone della Scuola Forestale di Città Ducale e da tutte le associazioni in congedo. A chiudere la sfilata la misericordia di Antrodoco. In piazza 4 novembre invece si terrà la consegna della pergamena della cittadinanza onoraria agli alpini e della targa alla famiglia del maresciallo capo Luca Polsinelli, alpino del nono reggimento, scomparsa a Kabul nella missione del 2006. Ancora un segno di effetto tangibile questo verso i nostri alpini, orgoglio della città dell'Aquila.